E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Leo e oggi vi spiegherò come installare e configurare Dolphin, l'emulatore della Wii per il computer Ok ragazzi, procediamo subito con l'installazione Come possiamo vedere siamo sul mio computer e qui abbiamo Dolphin Master 5.0 x64 Praticamente sarebbe l'emulatore per la versione Windows 64 bit Questo emulatore potete installarlo anche per la versione 32 bit di Windows Io in questo caso ho scaricato la versione beta, vi consiglio di scaricare o una versione di tipo beta oppure una versione stabile come le chiamano sul sito Quindi cominciamo subito Ho aperto con winrar il file 7-zip di Dolphin e possiamo subito trovare la cartella di Dolphin Apriamola e qui abbiamo direttamente l'emulatore pronto per essere utilizzato L'unica cosa che dovremmo fare è trovare la cartella dove vogliamo estrarlo In questo caso io l'ho piazzato su dgames, come potete vedere eccolo qui E niente, vi faccio vedere subito come funziona Non c'è bisogno di nessuna installazione, almeno per la versione beta L'emulatore è già qui pronto Lo possiamo avviare con un doppio clic o creare anche un collegamento sul desktop Come potete vedere il mio è già un po' settato di emulatore Ma comunque vi faccio vedere tutto come funziona Allora, partiamo dalle opzioni Configurazione Qui possiamo vedere le impostazioni di base Dove possiamo cambiare magari questa qui che si chiama abilità dual core Aumenta la velocità Questo secondo me è molto utile Io l'ho abilitato perché è un processore che ha diversi core Poi abilita trucchi, nel caso che ne so, qualche gioco abbia qualche trucco immagino E qui altre impostazioni che non ci interessano molto Se non limite velocità dell'emulazione 100% che è quella standard Se volete giocare più velocemente potete aumentarlo o rallentarlo Ma non è molto importante questo immagino Poi questo è l'aggiornamento automatico Se lo volete aggiornare in quale modo e ogni quanto Poi passiamo a interfaccia Interfaccia, qui possiamo vedere interfaccia utente Lingua, lingua di sistema possiamo lasciare O altrimenti se volete scegliere un'altra lingua basta selezionarla dal menu a tendina Poi tema possiamo mettere clean oppure altri colori insomma che sono qui elencati Poi c'è scritto usa database interno per i nomi dei giochi Questo è un database immagino automatico Che ci permette di trovare automaticamente il gioco e dargli un nome all'interno dell'emulatore Queste impostazioni non sono molto importanti E possiamo procedere anche su audio Audio, io vi consiglio di mettere in base al vostro pc DSPHL veloce O interpreter DSPL e LE che dovrebbe essere meglio ma va più lento l'emulatore Ovviamente non va più lento se avete un buon pc e quindi scorre molto meglio insomma Anche l'audio Motore audio Qui ci sono diversi Allora Cubeb, non so se l'ho pronunciato bene ma comunque vabbè E Wasapi, Wasapi l'ho provato ma non è il massimo Motelità esclusiva dice ma comunque mi sembra meglio Cubeb E nessun output audio ovviamente non farà sentire il suono degli giochi Decoder Dolby Pro Logic 2 Diciamo che sì è meglio abilitarlo perché comunque sia molto importante per l'audio Qualità decodifica io ho messo più alta perché logicamente un computer è abbastanza potente e credo di potermelo permettere Poi impostazioni auto stretching Questo è per modificare come si sente l'audio e cose varie ma sono cose più tecniche che non ci interessano Poi percorsi qui possiamo scegliere una cartella dove automaticamente Dolphin troverà i nostri giochi In questo caso la mia è di games Dolphin Games E praticamente quando metto i giochi qua dentro lui mi li rileva Possiamo passare a Gamecube Poiché questo è un emulatore anche del Gamecube oltre della Wii Come possiamo vedere qui dice sempre lingua e sistema Possiamo scegliere la nostra lingua In questo caso mi sono dimenticato di mettere italiano probabilmente E possiamo andare avanti Qui impostazioni varie Usa modalità PAL 60 E questo ci permetterà di giocare meglio i giochi di versione europea penso Quindi è molto meglio spuntarlo Ma comunque alcune di queste impostazioni dovrebbero essere spuntate automaticamente Già quando avete l'emulatore Abilita screensaver Significa che abiliterà uno screensaver che è praticamente uno schermo di pausa durante l'emulazione Questo non è molto importante Credo che è per trasferire i giochi della Wii su una SD card e cose simili Ma comunque passiamo al rapporto d'aspetto 16 noni vi consiglio Se volete giocare l'originale 4 terzi su alcuni giochi Poiché molti giochi della Wii erano originalmente in 4 terzi Potete farlo tranquillamente mettendo 4 terzi Ma comunque preferisco sempre 16 noni Anche se è strecciato Cioè diciamo portato appunto più largo Lingua di sistema sempre italiano Suono vi consiglio stereo A meno che non avete qualcosa di particolare come surround Ma questo credo che rallenterà anche un po' le prestazioni dell'emulazione E poi possiamo andare in avanzate CPU emulation engine Io questo l'avevo di default Ricompilatore JIT consigliato infatti E questi credo che siano in base al computer Che vi vuol permettere magari di fare un'esperienza migliore Ma comunque credo che è meglio lasciare consigliato qui Qui sono impostazioni più tecniche che non ci interessano molto E quindi qui abbiamo chiuso Possiamo fare chiudi appunto Possiamo andare in impostazioni video adesso Impostazioni video Qui è un po' più complicata la cosa Vi dirà impostazioni di base Motore Io ho messo Direct3D 12 Che è la DirectX più recente Per far girare giochi o programmi pesanti Io ho messo questa più recente Perché la mia scheda grafica supporta Questo tipo di Direct3D Ma comunque vi consiglio Direct3D 11 Se avete un computer un po' più vecchio Certamente non OpenGL O se dovete fare qualche cosa di particolare Ma non credo che vi serva Altrimenti anche Vulkan dovrebbe essere buona Ma è un po' più lenta normalmente Questi software renderer lasciatelo perdere E poi c'è nessuno Ma ovviamente se mettiamo nessuno Credo che i giochi neanche possano partire Adattatore Credo che intenda la scheda grafica O qualcosa che possa portare l'output sullo schermo dei giochi Io ho messo in vita GeForce GTX 1060 3GB Che non altro è che la mia scheda grafica ovviamente Rapporto d'aspetto Adatta finestra Forza 16 noni Forza 4 terzi Ma comunque se prima abbiamo messo 16 noni Sulle impostazioni Credo che può bastare Mettere adatta la finestra Altrimenti potete mettere 4 terzi Se non vi metti 4 terzi Automaticamente anche durante il gioco V-Sync Qui possiamo abilitare la sincronizzazione verticale Dell'emulazione su schermo Per darci un'esperienza migliore Ma questo anche vi consiglio di metterlo Se avete un computer molto potente Poi avvia schermo intero Questo vabbè è normale Potete metterlo tranquillamente Senza premere qualche tasto aggiuntivo Il gioco si avvierà automaticamente a schermo intero Poi altro Queste sono cose tecniche Come ad esempio mostra FPS Per vedere quanti FPS fa il gioco Ad esempio Poi c'è renderizzo nella finestra principale Mostra messaggi netplay Eccetera eccetera Computazione shader Qui io vi consiglio di mettere sincrono C'era già di default Dovrebbe essere più o meno ottimale per tutti i computer Poi miglioramenti Risoluzione interna Qui c'è un po' da lavorare Ovvero dipende dal vostro computer E anche dalla risoluzione del vostro monitor O cose simili Io ho messo 1920x1584 Che è più o meno 1080p Che equivale al 3x del nativo Beh diciamo che io vi consiglio 720p Ovvero 1280x1056 Perché è un po' meno pesante Se proprio avete un computer portatile Anche un po' vecchio Nativo 640x528 Ma ovviamente abbassando questo valore Si vedrà un po' peggio il gioco E altrimenti se avete un computer molto potente Se proprio l'avete potente anche più del mio Potete anche arrivare a 2k 4k e cose simili C'è anche automatico Ma credo di sconsigliarvelo Poi anti-aliasing Io ho messo 4x SSAA Beh in questo caso Potevamo anche mettere di meno Infatti lo sto ancora un po' testando Emulatore Non ho giocato molte cose qua Però vi consiglio O nessuno O massimo 4x MSAA Io ho un processore molto potente E la scheda grafica Abbastanza buona Quindi credo di potermi permettere Anche quella che avevo già scelto C'è questo qui Filtraggio anisotropico Anche qui è più o meno Come l'anti-aliasing Quindi io ho messo 16x Ma voi mettete 2x 4x Massimo vi consiglio Effetto di post-processing Qui è per migliorare un po' di nuovo il gioco Ma diciamo che ve lo sconsiglio Neanche io l'ho messo Perché mi sembra che mi laggava Quando l'ho messo questa impostazione Poi copia in EFB Scala eccetera eccetera Questo alcune le potreste spuntare E provare magari Ma comunque vi consiglio di lasciare tutto predefinito In questo settore Poi stereoscopia Mutata stereoscopia 3D Non credo sia niente di speciale Non so Praticamente serve per migliorare l'esperienza di gioco Sempre ma È una cosa che comunque Rende tutto pesante E dovete avere un monitor particolare Credo per abilitare questa opzione E vedere dei risultati Quindi lasciamo perdere anche questo Axe Qui Embedded Frame Buffer EFB E qui Credo di lasciare Si potete lasciare tranquillamente Tutto automatico Predefinito Cache texture Potete mettere se sicura Ovvero Diciamo Il migliore possibile Oppure rapida Cioè che ve lo carica più velocemente Ma allo stesso tempo Diciamo che Non si vede un po' peggio Però comunque Mi sembra che rapida Era già messo E io Lo gioco tranquillamente I giochi sull'emulatore Quindi credo che vada bene Anche rapida così Decodificatore texture Sul gpu Significa che se avete una buona gpu Potete metterlo tranquillamente E qui con questo Potete vedere sempre meglio Il giochi E tutto il resto Externa Frame Buffer Qui credo che potete lasciare Com'è Stessa cosa qui E avanzate Su avanzate invece Abbiamo Abita Wireframe Mostra informazione Eccetera eccetera Queste sono appunto avanzate Quindi è ancora più particolare Il tutto E non credo che dovete spuntare niente A meno che non dovete fare Qualche test Esagerato di emulazione O cose simili Ma non ci serve In questo momento Poi Abbiamo impostazioni audio Impostazioni audio Ci siamo già stati Dove erano impostazioni di base Eccetera eccetera Come potete vedere Ce l'abbiamo già visto Poi impostazioni controller Qui Potete configurare Per tutte e quattro Le porte dei controller Che potete connettere Via usb Bluetooth Qualche è La configurazione appunto Io ho messo controller standard E poi ho messo configura Dopodiché Ho preso il mio controller E ho segnato ad ognuno Dei tasti Quello corrispondente Sull'emulazione Ora vi faccio vedere Ok Ho connesso il mio controller Possiamo vedere Che dovrebbe essere X input 0 gamepad E qui possiamo vedere A Equivale al button X In questo caso Vi dice anche qui Clic sinistro del mouse Per rilevare l'input Clic centrale del mouse Per cancellare Clic destro del mouse Per altre opzioni Ok Quindi clicchiamo il sinistro Aspettiamo un attimo E dopodiché Possiamo premere il nostro pulsante Sul gamepad Ok In questo caso Se io premessi La X Del Xbox One Dice button X E credo che se premo Un altro tasto Succeda un'altra cosa Premuto A Button A Questa è la configurazione Che se volete Potete copiare Perché è corretta Questa qui Almeno Io mi ci trovo bene Per diversi giochi Ma ovviamente Varia per diversi giochi Anche questo Alcuni giochi Serve meglio Gocarlo con altre Configurazioni di tasti Sul proprio gamepad Poi dipende Con cosa giocate Appunto Ma comunque Questo Almeno io ho giocato A qualche gioco di Dragon Ball E ho provato Mi sembra qualche Super Mario Ma Ho cambiato leggermente Qualche tasto Ma comunque Dovrebbe andare più che bene Come potete vedere La configurazione è appunto questa Potete copiare tranquillamente Il tutto E nulla Qui anche abbiamo finito Potete creare un profilo Quindi salvarlo E caricarlo Io ho questo dell'Xbox E possiamo fare chiudi Poi Qui possiamo fare Emula L'adattatore Bluetooth Del Wii E qui possiamo Emulare Un Wii remote Appunto Che è quello che ci servirebbe Emulare Nella porta Nella porta Del controller Quindi dovrebbe essere Già tutto di default Qui quindi lasciate così Insomma E possiamo fare chiudi Anche qua Una volta fatto tutto Impostazioni di tasti Di scelta rapida Qui se volete fare qualcosa Velocemente Con qualche tasto Da tastiera Mentre giocate Ma non credo che vi serva troppo A meno che non fate qualche test Particolare Dopodiché C'è Impostazioni Camera libera Ma anche qui È un po' particolare In alcuni giochi Vi permette La manipolazione Come dice qui Della telecamera In game Ma Non è importante A meno che non state facendo Appunto qualcosa Di così Insomma Result Spark Manager Dovrebbe essere Per trovare Qualche Result Spark Particolare Per qualche gioco Ma comunque Niente di importante Avvia Netplay Dovrebbe essere Per giocare online Non l'ho ancora testato Ma Comunque non credo che Giocando da emulatore Facciate niente di simile E per il resto Mostra finestra di log Significa Mostra finestra Per vedere Diciamo Tutte le cose Che succedono in gioco E i vari processi Che fa l'emulatore E qui c'è l'aiuto Sul website E altre cose simili Per l'emulazione Bene ragazzi Credo che vi posso Pure far vedere Un gioco Come ad esempio Dragon Ball Z V2Made Incai 3 Che ho semplicemente Messo facendo Apri E mettendo il gioco Oppure selezionando La cartella Dove me l'ha rilevato Automaticamente Come prima dicevo Quindi facciamo Un doppio clic E si dovrebbe avviare Ok Sto giocando in live Adesso Quindi potete anche sentire Tra poco partirà La sigla In teoria I tasti sono un po' diversi Su la Wii Ma Comunque Basta farci l'abitudine Come potete sentire Ecco l'audio Possiamo saltare E come potete vedere E' perfettamente funzionante Ora non ricordo i tasti Ok Praticamente ad esempio Uso questo tasto qui Invece di altri Per premere X Invece di A Ad esempio Che si usa sull'emulatore Della PS2 normalmente E per scorrere qui Dobbiamo usare L'anolog stick Quindi questo qui Ma comunque Questi sono piccoli dettagli Che potete anche aggiustare O fixare voi Nelle impostazioni E niente Ecco qui Il gioco risulta Leggermente diverso Ma comunque Normalmente Tenkai C3 Sull'emulatore della Wii Risulta sempre migliore Dell'emulatore della PS2 Perché la Wii È sempre stata migliore E quindi Anche inulata sul computer Risulta sempre meglio Normalmente E niente Ecco qua Possiamo tranquillamente Selezionare Super Saiyan 3 O Persona Girandom Insomma Selezioniamo uno stage A caso Faccio fare un po' Di flessioni a Vegeta Ed eccoci Ora sto registrando Quindi potrebbe laggare Leggermente Ma comunque Per il resto È ottima Secondo me Anche l'emulazione È tutto Come potete vedere Anche le texture Sono molto meglio Secondo me E niente Questo è tutto ragazzi Possiamo anche Interrompere l'emulazione E niente Questo è tutto da Andileo Noi ci vediamo In un prossimo video Vi lascio qui Con l'emulatore Della Wii e Gamecube Quindi se volete Potete anche scaricare Dei giochi Gamecube A patto che magari Voi abbiate La copia originale Perché in teoria Scaricare giochi Gamecube O Wii Senza averli Almeno possederli Dovrebbe essere Un piccolo reato Quindi Io questi giochi Li ho E li posso giocare In teoria Questo è tutto Se volete Scaricare un gioco Gamecube Fate apri E qui ci sarà Il vostro file Gamecube Che dovrebbe finire Con estensioni Simili a queste Le selezionate E vi parte Più o meno Come questi L'emulazione E i tasti Del controller Dovrebbe essere uguali Sia per tutti i giochi Qui che scaricate Che per il Gamecube Quindi non ci dovrebbero Sarebbero problemi Il gioco risulta Sempre uguale Con il controller Non c'è niente Di particolare E se avete problemi In ogni caso Scrivetemi tutto qui Sotto nei commenti Iscrivetevi Attivate la campanella Lasciate like E tutto il resto Ragazzi Mi raccomando Noi ci vediamo al prossimo video Questo è tutto Da AndyLeo Ciao ragazzi